Nella giornata di ieri 27 luglio i corpi dei carabinieri di Reggio Catona, Seminara e Polistena hanno mobilitato una serie di arresti. A Palmi, in ottemperanza di ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Palmi, sezione GIP, è stato tratto in arresto Radev Todor Nelialkov, di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, in atto sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento scaturisce dal reato di evasione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Palmi, a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante. Mentre Reggio Calabria Pelicanò, fortunato di anni 55 in adempimento all'ordine di esecuzione e pene concorrenti emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, dovendo scontare la pena complessiva di 28 anni, 11 mesi e 29 giorni per i reati di rapina, sequestro di persona, ricettazione, detenzione illegale di armi, acquisto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, omicidio o porto illegale di armi, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità personale, il prevenuto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante. E a Polistena, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Cullari Francesco, il trentenne, poiché, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, veniva notato all'esterno, lungo la via piazzale stazione. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando Compagnia di Tauria Nova in attesa del rito per direttissima disposto dall'autorità giudiziaria competente.